Buongiorno e ben ritrovati Retrocessione per la cona della Mezzia dopo il riposo sfiderà Spoleto Lo avete sentito, apriamo con una notizia aggiunta Questa mattina maltrattavano bambini durante le ore di lezione Successo a Zungri nel Vibonese dove due maestre delle scuole elementari sono state raggiunte dal provvedimento di obbligo di dimora Alcuni video le incastravano mentre umiliavano e maltrattavano i piccoli alunni Sistematico ricorso alla violenza fisica e psicologica nei confronti degli scolari Queste le risultanze dell'inchiesta dei carabinieri della compagnia di Tropea e della stazione di Zungri in provincia di Vibo Valencia Che hanno eseguito due provvedimenti di obbligo di dimora nei comuni di residenza A carico di due maestre della scuola primaria di Zungri, una di 65 e l'altra di 51 anni Le indagini hanno permesso di documentare attraverso l'utilizzo di telecamere I maltrattamenti posti in essere dalle due insegnanti nei confronti di alcuni alunni di prima elementare Secondo quanto avrebbero accertato gli investigatori La violenza si sarebbe concretizzata con urla, minacce, insulti e percosse ai danni dei bambini E si traduceva in un clima di generale intimidazione e soggezione L'inchiesta che ha portato poi all'esecuzione dei provvedimenti cautelari E scaturita le dichiarazioni delle madri di alcuni alunni Secondo i carabinieri i magistrati hanno ritenuto il comportamento degli insegnanti Non solo indifferente ai compiti educativi a loro demandati Ma anche avulso dai comuni principi di educazione e buonsenso Ritorniamo adesso sulla notizia shock dell'uomo che a Reggio Calabria Ha dato fuoco alla sua auto con l'ex moglie a bordo Proseguono le indagini degli inquirenti Adesso è caccia all'uomo E ancora caccia all'uomo a Reggio Calabria Posti di blocco e controlli a tappeto in tutta la città Per scovare il 44enne Ciro Russo di Ercolano, Napoli Sfuggito agli arresti domiciliari Qui era sottoposto per tentare di uccidere davanti agli occhi di diversi passanti Molti dei quali studenti La propria ex moglie Maria Rosaria Rositani di 42 anni, regina Consapevole delle abitudini della donna, Russo l'ha attesa Poco prima delle 9 in via Frangipane, nella periferia sud della città Vicino al liceo artistico, in una via densamente tranficata L'uomo si è avvicinato all'auto della donna che alla sua vista Ha tentato la fuga finendo contro un muro L'uomo a questo punto ha aperto lo sportello Le ha versato del liquido infiammabile addosso ed ha piccato il fuoco Dandosi alla fuga Subito allertate dai numerosi testimoni Sono immediatamente giunte sul posto le forze dell'ordine Che hanno prestato i primi soccorsi alla donna Per la 42enne, gravi ustioni sul 70% del corpo E il trasferimento con un volo dell'aeronautica militare Nel centro grandi ustionati di Brindisi Al contempo è partita la caccia all'uomo Che potrebbe essere rimasto ustionata a sua volta Ma del quale si sono perse le tracce Russo sarebbe fuggito a bordo di una Hyundai i30 Di colore grigio scuro Di cui la questura ha fornito la targa FF685FW Ritrovata qualche ora dopo parcheggiata alla buona In pieno centro Il Consiglio dei Ministri ha deliberato Lo scioglimento dell'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria Sembrerebbero evidenti le cause di infiltrazione mafiosa Motivo per il quale il Governo ha affidato La gestione dell'ente sanitario ad una commissione straordinaria Sanità calabrese ancora nell'occhio del ciclone Come non bastassero gli scandali e le polemiche Eseguite ai servizi mandati in onda dalla trasmissione TV Leiene Che ha mostrato all'Italia intera Le gravi condizioni degli ospedali della Regione E lo scontro La distanza fra il Ministro della Sanità Giulia Grillo Rimasta inorridita Da quanto visto nel corso della sua visita Negli ospedali di Poliste nell'Ocri E la Regione Calabria Arriva ora l'azzeramento dei vertici Dell'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria Il Consiglio dei Ministri ha deliberato infatti Lo scioglimento dell'ASPA Regina Per infiltrazione dell'Andrangheta Affidandone la gestione ad una commissione straordinaria La decisione è stata presa su proposta Del prefetto di Reggio Calabria Michele Di Bari In base all'esito dell'accesso antimafia Eseguito nei mesi scorsi La commissione straordinaria sarà composta Dal prefetto Giovanni Meloni E dai dirigenti del Ministero dell'Interno Maria Carolina Ippolito E Domenico Giordano La locandina di un evento Che si terrà a Cosenza Ritrae Matteo Salvini Appeso a testa in giù Da Twitter arriva la risposta del vicepremiere Ed immancabile la polemica social La Calabria chiama Anzi per certi versi provoca Matteo Salvini risponde Ed il resto sotto questo aspetto Non si fa mai pregare Il tutto ovviamente via social La storia nasce di fatto a Cosenza Nel capologo Bruzzo infatti si svolgerà il prossimo 30 marzo Un cosiddetto DJ set Denominato Tecno Resistance Cosa c'entra il Ministro dell'Interno? Tutto si spiega dando un'occhiata alla locandina Che ritrae le immagini del vicepremier Appeso a testa in giù La cosa non è sfuggita a Salvini Che ha pubblicato su Twitter la locandina Con il commento che simpaticoni Tanti ovviamente i commenti Che hanno ritenuto offensivo il manifesto Sulla vicenda è intervenuto anche Il consigliere comunale di Cosenza della Lega Vincenzo Granata Che ha voluto dire basta ai messaggi di odio Esprimendo ferma condanna In relazione a quanto accaduto E auspicando unità di intenti In tal senso con tutte le forze politiche Passiamo adesso alla pagina sportiva Parliamo di volley a due Dopo il turno di riposo Torna in campo la Conad Lamezia Che ospiterà Spoleto Ma le possibilità di evitare la retrocessione Sono ormai prossime allo zero Speranze in buona sostanza non ce ne sono Perché recuperare nove punti in tre partite È praticamente impossibile Soprattutto se si parla di una squadra Che di punti in un intero campionato Ne ha portati a casa soltanto otto Potrebbe essere allora in tutta onestà La domenica della matematica retrocessione Per la Conad Lamezia Che dopo il turno di riposo Ritorna in campo in casa Ovvero a Cosenza Ospitando Spoleto Quarta forza del torneo Lamezia dovrebbe vincere le restanti tre gare 3-0 o 3-1 E sperare che Roma le perde tutte Sempre per 3-0 o 3-1 Per poi fare i conti con il quotiente set L'obiettivo sarebbe evitare l'ultima posizione Ovvero quello che porta alla retrocessione diretta In A3 Sarebbe perché di fatto Sono calcoli che lasciano il tempo che trovano Anche in considerazione del valore dell'avversario Che si troverà di fronte Lamezia Ma anche dalla sfida di Roma Che vedrà i padroni di casa opposti a Leverano In questi casi si dice Bisogna adorare il campionato fino in fondo Per i bilanci ci sarà tempo Ed anche per questa edizione è tutto Io prima di salutarvi vi ricordo come sempre Di consultare il nostro sito www.calabrianews24.it Grazie per averci seguito E vi aspetto alla prossima edizione Delle 19.30 Bisogna adorare il nostro studio SfW 害